Corvo Rosso a base, Corvo Rosso a base, siamo inseguiti dai cacciatai, presto mandateci subito rinforzi Ma porca puttana, ma quanti sono sti cacciatai ragazzi dove siete? Aaaaaaah, ma cuno! Corvo 1 e Corvo 2 sono stati colpiti, sono dietro le mie spalle, aiuto! Corvo Rosso 3, un attimo che ho giocato, sto firmando la constatazione, arrivo, 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 hai capito?